Oggi è stata ufficialmente lanciata la piattaforma di NFT di Binance, dove si può comprare e vendere e anche creare, come vedremo, degli NFT sulla Binance Smart Chain. Inoltre è possibile metterli in vendita direttamente sul marketplace visibile dall'exchange di Binance, ottenendo quindi una visibilità importante. In questi giorni ci sono i primi drop, ovvero i rilasci, le vendite iniziali di alcune collezioni di NFT di 100 creatori selezionati da Binance e in seguito le porte verranno aperte un po' alla volta a chi vorrà mettere in vendita creando appunto i propri NFT e le proprie collezioni. Nel video di oggi vi mostro tutto quello che c'è da sapere su questa piattaforma, quindi come si naviga, quali drop ci saranno, se ci saranno delle iniziative interessanti da un punto di vista anche speculativo e soprattutto come utilizzarla, quindi come comprare, vendere, come vedere gli NFT posseduti e anche come crearli. Seguitemi che sarà interessante. Buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti. La piattaforma di NFT di Binance è una sezione in realtà del Binance Exchange. Infatti se lo aprite da oggi vedete una nuova voce nel menu che è proprio NFT. Quindi per accedere non sarà necessario creare un nuovo account ma si utilizzerà direttamente quello dell'exchange. Ovviamente se non avete un account su Binance e vi interessa utilizzare il servizio io vi lascio il mio referral link come di consueto in descrizione che vi dà tra le varie cose un 20% di sconto sulle fee di Binance per sempre. Ora andiamo a vedere come si presenta questa nuova piattaforma perché effettivamente per chi non conosce bene il mondo degli NFT può essere un po' confusionaria motivo per cui ho deciso di fare questo video per voi oggi. La piattaforma al momento è ancora in uno stadio embrionale perché ci saranno poi delle nuove voci aggiunte. Al momento è possibile visitare il marketplace che è quel luogo dove si può comprare e vendere NFT e le cosiddette mystery boxes alle quali arriveremo tra poco. Arriveremo tra poco perché in questi giorni ci sono gli eventi legati al lancio di questa piattaforma. La timeline è in questo annuncio che vi lascio magari anche in descrizione il link così lo potete consultare con calma e sostanzialmente mostra tra oggi domani e dopodomani quegli eventi che ci saranno proprio per celebrare per inaugurare questa piattaforma. Il primo evento è stato il lancio dei 100 creators che è quella campagna creata da Binance stesso prima ancora del lancio per trovare 100 creatori 100 artisti da vari settori diciamo da vari anche paesi per creare i primi NFT che sono stati messi in vendita all'apertura della piattaforma questa mattina. Tra i vari creatori vi segnalo che ci sono anche tanti italiani tra cui lo studio fotografico Tyler Darden molto bravi vi consiglio di darci un occhio e anche Guepe Kenyo insomma ci sono tanti tanti italiani se ci date un occhio cercate Binance 100 creators li trovate tutti e vedete chi c'è dietro. Tra i creatori ci sono anche alcune squadre sportive come la Dinamo Kiev insomma il mondo degli NFT è sempre variegato non è soltanto legato all'arte alla fotografia alla musica ma anche ad esempio beni tangibili tokenizzati. Ci sono infatti alcuni NFT legati alla possibilità anche di richiedere un corrispondente bene fisico tra poco vi mostro alcuni esempi e qualsiasi utilizzo che può interessare un bene fisico virtuale digitale che deve avere le caratteristiche di unicità certificazione della proprietà e soprattutto autenticità. Queste sono le caratteristiche principali che un NFT dà poi non è questa la sede in cui approfondirò gli NFT stessi perché ho fatto un video dedicato ormai molto tempo fa ma i topic sono sempre quelli. Torniamo ai nostri eventi del lancio gli eventi sono divisi in due categorie la prima sono le mystery boxes che sostanzialmente è una pesca fortunata tra una certa quantità di NFT è come acquistare un pacchetto di carte collezionabili immaginate al cui interno potete trovare alcune rare alcune comuni e alcune non comuni quindi di diverso grado di rarità. Allo stesso modo funziona funzionava anzi perché questa è già terminata ma non sarà l'ultima la serie delle mystery box in collaborazione con Tokidoki un brand giapponese abbastanza conosciuto. Sostanzialmente era possibile acquistare a un prezzo di 20 BUSD uno di questi Tokidoki in versione NFT che aveva una rarità casuale quindi poteva andare molto bene trovare quelli con tiratura molto limitata poteva andare meno bene trovare quelli comuni. Io ne sto vedendo già adesso se andate a spulciare il marketplace potrete andarne già a vedere alcuni che sono rivenduti già ad un prezzo ovviamente più elevato. Basta cercare Tokidoki e come potete vedere ne troviamo veramente una quantità industriale comunque qua stiamo parlando di speculazione alcune sono addirittura le stesse mystery box non ancora aperte. Torniamo comunque a noi la seconda categoria quella secondo me più interessante è quella delle Genesis Auction ovvero delle aste Genesis proprio perché è una diciamo un'asta di inizio un'asta di lancio dedicata proprio al lancio della piattaforma Binance NFT. E ci sono due collezioni la Three Self Portraits e la Divine Comedy ovviamente ispirata alla Divina Commedia la Three Self Portraits è ispirata invece a Andy Warhol. Per vederli basta andare nella home page e selezionare qua sotto Genesis Get Started e veniamo subito reindirizzati alla pagina di competenza dove c'è una breve introduzione, le date e qua sotto ci sono le vendite in arrivo o anche in corso perché alcune sono già iniziate in questo momento. Allora qua in alto abbiamo una premium offer di questi Three Self Portraits che hanno solo un pezzo tiratura unica quindi vediamo se l'asta è già iniziata sì e termina tra due giorni e guardate quanto è l'offerta attuale due milioni e mezzo notevole sarà difficile immagino da superare. Ma se qualcuno si vuole imbattere in questa cosa prego faccia pure non sarò certamente io poi qua sotto invece come vedete abbiamo delle offerte a tiratura meno limitata 102 pezzi per l'inferno 102 pezzi per il purgatorio 99 per il paradiso mentre gli altri Three Self Portraits hanno una tiratura di 33 pezzi e qua 34 insomma giù di lì. Comunque meno limitata rispetto ovviamente a questa che è unica ma più limitata rispetto a quella inferno purgatorio e paradiso. Fondamentalmente il valore di una collezione è dato ovviamente dalla tiratura ma non solo perché anche quanto vale simbolicamente il pezzo fa molto quanto è conosciuto l'artista lo stile eccetera eccetera quindi bisogna sempre mettere insieme le varie cose conoscere la storia che c'è dietro. Alla fine è una forma d'arte anche questa come vedete questi pezzi se vi incuriosisce il motivo per cui Binance Bitcoin ed Alice Z sono aggiunti ai vari pezzi vedete perché come potete apprezzare ogni scena tipo purgatorio 35 ha tre varianti. Il motivo è questo se noi lo apriamo quella ad esempio Binance se voi zoomate no non è questa scusate è quest'altra se voi zoomate aspettate un attimino perché adesso è sgranata e la deve caricare vedete che i pixel sono sostituiti dal simbolo di Binance e di BNB. Quella invece Bitcoin ovviamente i pixel sono sostituiti da Bitcoin sono immagini molto grandi quindi fa fatica a processarla in tempo reale vedete c'è anche qua di lato e infine l'ultimo con dentro Dalì CZ si chiamava ci sono delle silhouette di Dalì che fanno i pixel e in basso a sinistra c'è la firma del nostro CZ nazionale. Quindi questo è il motivo alcune aste sono già iniziate alcune devono ancora iniziare come vedete le date sono mostrate qua in questo riquadro andiamo ora a vedere la parte forse più importante ovvero come si comprano e vendono gli NFT su Binance bisogna utilizzare il marketplace quindi o dalla pagina iniziale dalla home page che è questa che vedete oppure proprio direttamente dal marketplace che è un po più dettagliato perché qua Nella home page vediamo gli NFT trending quindi quelli con il maggior numero di offerte in corso e alcune selezioni molto divertente che ci sono anche quelli di Lil Bubble non so se avete presente è quel cantante che fa cover su YouTube di canzoni cambiando le parole poi a tema cripto. Vabbè non andiamo off topic altrimenti ripeto dal marketplace potete andare a filtrare in maniera un po più dettagliata come vedete qui abbiamo di default tutti gli NFT ordinati dall'ultimo listato fino andare indietro e possiamo scegliere le categorie quindi con le mystery box come vi dicevo prima che sono quelle confezioni ancora ad aprire quindi con incertezza sulla rarità del contenuto come abbiamo visto per Tokidoki. Poi abbiamo arte sport divertimento insomma diverse categorie spiccano tra di esse quelle di alcuni nel tema sport in particolare li ho visti alcuni eventi tokenizzati biglietti per eventi o meglio tokenizzati in NFT. Ad esempio questo che presumo sia un evento o una partita della Dynamo Kiev di cui non sono ancora rivelati i dettagli perché dicono che spiegheranno meglio a inizio luglio. In ogni caso ecco è un NFT che ha un utilizzo una controparte nel mondo reale diciamo possiamo dire così a 555 BUSD. Poi poi vediamo cos'altro abbiamo ecco NFT for good anche questo è una controparte fisica tangibile in questo caso come ad esempio questo bellissimo paio di scarpe che vedete qui lo so che le vorreste mettetevi in fila. E in sostanza è un NFT con il quale si può andare a richiedere una copia fisica diciamo una controparte fisica di queste scarpe create da questa azienda di calzature brasiliana. Al momento ho quotato 3 BNB 2,999 pensavo fosse 3000 all'inizio ho detto ma chi è che spende 3000 BNB per questa cosa? Però no poi ho scoperto che è 2,999 in ogni caso per vedere quella che è la storia lo storico delle offerte fatte lo potete vedere qua sotto BDStory cliccando view more viene estesa anche la cronologia e si può andare avanti. Ovviamente l'ultima offerta a scadenza più alta sarà quella che si aggiudicherà l'NFT. Quindi per andare a piazzare un'offerta c'è un minimo mark up quindi un aumento minimo sul prezzo precedente che è definito in sede di asta in questo caso è 0,025 BNB. Se vogliamo andare a piazzare la nostra offerta andiamo a inserirla qua sotto con il minimo che viene autocompilato e poi la piazziamo e viene messa. Se nessuno ce la supera fino alla fine dell'asta l'NFT è nostro. Mentre qua sotto provenance potete vedere la storia di questo NFT quindi chi l'ha creato minded by chi l'ha listato quindi venduto che è listed by e poi ogni qualvolta verrà venduto e trasferito di proprietà sarà scritto esattamente qua nella sua storia. Per andare a vedere sulla blockchain come si è mosso il token o meglio lo smart contract di questo NFT potete andare a copiare l'address da qua sotto e andarlo a inserire sull'explorer della Binance Smart Chain. Come vedete qui abbiamo il nostro smart contract token tracker Binance regular NFT quindi ci mostra che è un NFT e qui abbiamo l'unica transazione eseguita che presumo sia quella di mining ovvero di creazione. Poi da lì ci saranno anche tutte le eventuali transazioni in coda di trasferimenti, movimenti e così via. Veniamo infine alla creazione di un NFT allora vi annuncio che questa pagina di creazione NFT non è ancora attiva e effettivamente qua in alto c'era Crea stamattina io l'ho beccato ho beccato l'indirizzo però ovviamente non funziona quindi io non posso ancora creare NFT presumo che verrà attivata in seguito quando verrà messa a disposizione a tutti la possibilità anche di creazione e commercializzazione dei propri NFT dopo la fase di lancio quindi. In ogni caso sembra veramente semplice ovvero potete andare a scegliere un'immagine un video o un audio massimo di 50 megabyte e creare il vostro NFT basta una volta creato presumo che poi si potrà metterlo in vendita sul marketplace dopo aver creato in qualche modo l'account da creatore adesso non so esattamente come funzionerà se ci saranno verifiche o se permetteranno proprio a tutti di farlo ma sembra estremamente semplice. Al momento c'è anche un'altra interfaccia che in realtà è accessibile a tutti già adesso che è quella di Featured by Binance che ho scoperto oggi in realtà però è già attivo da qualche giorno. In sostanza questo si interfaccia direttamente con la BSC cioè voi tramite Metamask entrate quindi a tutto non custodial non c'è di mezzo Binance e direttamente appunto da Metamask voi potete già creare comprare e vendere degli NFT creati proprio sulla Binance Smart Chain. In questo caso mi sembra una sorta di super rare su Binance Smart Chain o Rarible quelle piattaforme dove si può fare appunto creazione trasferimento vendita di NFT alla portata di tutti. In sostanza qua vedete ci sono alcuni creatori verificati che hanno le loro collezioni quindi in qualche modo ufficializzate perché sono artisti già conosciuti o comunque collaborano con la piattaforma ma non sono gli unici perché se voi andate a vedere andiamo ad esempio a fare browse trovate veramente veramente di tutto. Io avevo trovato per farvi capire adesso basta cercare un po' ecco l'immagine di Shiba Inu c'è veramente qualsiasi cosa una foto di Elon Musk con Dogecoin col Doge in mano veramente veramente fantastico quindi qualsiasi cosa ci finisce dentro andiamo a vedere per curiosità se ci sono delle offerte perché ste robe a me incuriosiscono un sacco è più lento perché vedete si interfaccia direttamente con gli address sulla Binance Smart Chain quindi non c'è ripeto l'intermediario va unlisted no questo non è nemmeno in vendita comunque ci sono la community collection che è quella un po' più generica ecco senza una particolare rarità e se invece si va a vedere ci sono anche qui i drop quindi le vendite iniziali e le collezioni comunque verificate dunque ecco prendiamo ad esempio questa vediamo che anche qua me la carica e poi c'è sotto il nome della collezione se si clicca sulla collezione stessa c'è tutta la serie di NFT dedicati proprio a questa collezione quindi poi c'è un tema di rarità e anche di fama diciamo dell'artista in questione quindi assumono un perché mentre tutti gli altri meme così diciamo che sono mossi non da un valore particolare ecco è un po' come succedeva nel fenomeno di Rarible dove chiunque si metteva a creare NFT e li vendeva senza neanche un perché comunque qua la creazione funziona in questo modo si può creare o una collezione quindi un gruppo di NFT con lo stesso contract una sorta di tiratura limitata oppure un NFT quindi unico e si può decidere di metterlo nella community collection o in un'altra collezione che noi abbiamo fatto ok quindi se si vuole aggiungerne uno a una collezione già creata si può fare da qua anche qui si carica il file nome descrizione un link opzionale si sceglie la collezione ovviamente io non avendo collezioni mi obbliga alla community collection la royalty quindi in sostanza la commissione che io prenderò eventualmente sulla vendita la categoria e quant'altro e poi nella pagina successiva si può andare a stabilire il prezzo di vendita tutto qua estremamente semplice però questo feature by Binance mi sembra più un porcile tra virgolette nel senso ci sono NFT di valore ma ci sono anche un mare di NFT insulsi mentre la piattaforma Binance NFT avendo comunque la direzione di Binance e non la libertà totale di fare da parte di chiunque quello che vuole c'è un maggiore controllo e un maggiore filtraggio presumo anche dal punto di vista del valore io presumo che quando permetteranno la creazione ci sarà una sorta di processo di verifica ecco vedremo comunque come sarà in ogni caso questo è tutto quello che per ora c'è da sapere sulla piattaforma Binance NFT cosa ne pensate? pensate che essere early adopters quindi andare ad acquistare ad esempio i primi drop che abbiamo visto le collezioni Genesis con la firma di CZ potrebbe essere un buon investimento o dite che gli NFT ancora non vi convincono fatemelo sapere nei commenti che ne discutiamo vi faccio un carissimo saluto e alla prossima